Quante cazzo ti c'è un video di consegna? Quella porca puttana La prossima deve essere l'ultima Perché Eh non è questa l'ultima ancora No no questa è la qua E' la terza L'ultima deve essere tra due settimane Ah ma quindi ancora non c'era Si c'è ancora Ah ma noi adesso faccio questo Ho finito? Si Siete sicuri? Poi sono parte 4 la parte 5 Ah Si poi c'è la parte 5 Ah ancora devo uscire la parte 5 Si esce poi una settimana Se giochi Eh si ci fanno allevare più ma C'è l'evento di stress Uuuuh Oddio questo stress Si diciamo in generale Perchè stiamo prendendo queste gemme Perchè in qualche modo è collegato Con il fatto di poter fermare Megalodon Anche Megalodon vorrebbe distruggere l'isola Con il viettano Che sarebbe il Quella non grossa gigantesca nave Che c'è sulla mappa Eh boh Da quello che ho capito queste gemme Hanno qualcosa che fare con il Poterlo fermare ma vediamo Ma guarda comunque Ma vediamo che cazzo stanno andando Andate a botte Andate al bordo Sei scemo Ma vediamo che cazzo mi sto andando Mi compro mal di testa Ia Ma vediamo che adesso Oggi un po' di mal di testa Per stabilire Ma ma per cosa? Dove? Ah ieri Ma l'abbiamo fatto quella messiera qui Ah si ma no Mi ha avuto mal di testa Infatti ieri quando hai staccato Ho staccato un'icchie Ma non ce la faccio per qui Un po' di mal di testa E ce l'ho da testa io è quello che mi passa oh ce l'ho spritz facciamoci una per lo spritz Sara vuole unirci al tuo gruppo mi invita? si Sara dove deve stare? mi invita cioè unirci al gruppo Sara? si mi sentite? avete vinta? ma va e beh però abbiamo fatto una vittoria e non è pazzesca adesso con mia cugina è difficile vincere perché lei si tuffa tipo kamikaze si la tua cugina è giocata kamikaze non ha paura è bello facciamo così ah l'hai consegnato la gemma si si eh ho finito penso di aver finito non so se c'è altra roba che devo fare ancora no si lea no l'hai finito l'hai finito finito? ah che ne ha me non vedo l'ordine finire sta merda qua ma no era una cazzata no nel senso si era un eratore di coglioni è come se mi è finito controllo se mi avevi avuto ma comunque io perché c'è qui o questo cazzo perché questo è la monocidona ma c'è oh c'è non è non è non è non è non è non è ah io ce l'ho però ho una entro di questa cazzia di arma è di città ah era tu che la facevi prima? si ti sentivo mi serve un po' un po' mi serve a me cecchino non ce l'ho io c'è il cecchino blu qua si si ci sono, ho chiuso il microfono perchè sono al telefono ah ok si fai fai ah prendo io il cecchino eh piglielo tu dai oh qua c'è minchia due cose per riparare le macchine che facciamo le pigliamo ma io cose che lascio per pigliare queste no ma io piglielo tu io piglio questo qua quello per bloccare le macchine vedo io eh questo qua è importante però senti quasi quasi lascio questo però è che hai lasciato sotto eh e qua oh ce son due se ti può pigliare te due non lo so due forse sono un po' troppo però no troppo no io c'ho già oh vabbè dai no un po' troppo dai c'ho due armi e lo preso tutti e due da hop e lo preso e hop e lo preso da l'auto ma non poi lo preso inizia cazzo termi bianche porca puttana però eh eh vedo scoppa ti devi guardare le ore no tanti cecchino le ore ogni volta che compri un'arma e poi le trovi per terra ma ogni volta così succede ah ma il botto è buona perché non riesco a passare di qua no mi sono incastrato ah ok eh si ah raga ma come inizio sparando eh eh sento ma ah ma son qua sotto oh dove sono? vai sei un botto no? vai ti spariamo ma come sparano? si si con botto lo sparano così all'infinito e non finiscono mai vuol dire che ma non me la dava la missione ma non muoro ma ma di notte me la dava sta missione è morto oh prendi questa pistola no no usa questa ma perché c'è la munizione a canna? si c'è la munizione c'è la moda a canna termi bianchi cazzo del cazzo la canna dove cazzo la trovi? eh ma l'ha dato oh poi è una pistolina ma no ma anche questo eh ha la munizione a canna ma questa che hai droppato questo? ah si eh si è meglio questa è meglio quella la eh che vedi sicuro è meglio di questa pistola perchè questa è una pistola pesante no c'ho i c'ho le nitro ma questo è morto ah ma questo è morto è morto ma io penso puoi cominciare no qualsiasi arma che è una mod è a canna vale per la qualsiasi si ma è facile lei mi ha fatto modificare no è morto è morto aspettate raga non l'ho amassato ah è troppo tardi devi dirlo prima cazzo dimmelo no porca puttana ah ma non mi ricordo ah vabbè dai si fa si fa si fa tranquillo ma che armè che stai usando con la canna scusa per capire che armè che stai usando con la canna non so qualsiasi viola per me voglio scusa è un assalto cicchino uccide d'assalto fantastico è un vero a una teniamo avanti da fare ah 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 si aspetta mamma con il giocatore ho anche versani no no qua non c'è l'unico di bersani non ho già di bersani con la bersani vuol dire anche i modi quindi andiamo da un bot qua qua è il bot ecco c'è uno qua ai pasci ci vedo no no quello è l'epicc ma io ho visto un bas ho visto un bas qua 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 vediamo di qua eh ma questi non sono un bot vabbè spara io cazzo che ne frega però con la macchina di sicuro non è un bot uuh i quanti questo è un bot quello o no forse no e un colpo glielo do no non sono bot quelli diante ragazze stai andato ragazze stai andato ragazze noi sono un po' di morto oh l'ho colpiti eh comunque vai vai finisci è morti? che significa? l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto vedi qui ah ok io prendo eh raga va che mi dita questo? tiene armi a rottargli le schiose ah rottarli le schiose devi andare rottarli le schiose che è qua no arriva la macchina uuh vogliela blocco noo non l'ho presa Ah, io l'ho pregato, ma che cazzo, ma questo qua, che cazzo, mamma mia che porcellino, guarda quanta roba, io ho questo qua po' da solo, non lo so, puoi aprire la scheda di compagno, ce l'ho capito, doveva fare, io mi ho tirato, ho tirato le cose, porca puttana, ma c'è un bordello di cose, ma che sono morti tutti qua, ma ci sono tutti morti, ma questa non è una botta comunque, no, ha detto, ma ci saranno tutti morti, ma ce ne saranno ancora, non è, non è lo popolo, mi stavamo ammazzando, oh, c'è il midaglione qua dentro ancora, lo so, se voglio, lo piglio, ragazzi, arrivo la macchina, arrivo la macchina, aiuto, 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 no, è la macchina potente, aiuto, aiuto, ragazzo, sei? per qua, dove c'è la macchina potente, io gliela blocco, eh, oh, ma come cazzo si guida sta macchina, oh, ma è il suolo, eh, in il suolo, adesso, fallo avvicinare, che gli devo tirare la cosa, no, sta scappando, dai, sono l'unico, da venire, gliel'ho tirata, gliel'ho tirata, che cazzo c'è, ai guanti, moragli, marca puttana, ma quasi è ucciso, maledetto, che non è altro, guarda, c'aveva tutta, guarda, che bastardo questo, quante roba aveva questo, facciamo il boss quello da dentro, allora, qua, mi devo curare, ma quasi è ucciso a me, sto coglione, dopo tutta la macchina con la porta, grazie, eh, ma adesso ne abbiamo due, adesso pigliamo anche quella, eh, sì, eh, bomba mia, tipo, c'è il coglione, ma, infatti, per male che ero fuori, ma se eravamo dentro, forza, piglio anche le schede, ma l'avete, ma c'è già, già, ah, eccola, da che c'è, ah, 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 morto? di morto, si, da quello che spara, ho fatto male, cadenta, comunque io, non prendo la macchina, ecco, c'è gente di qua, e non possiamo, una macchina è stata, è morta, non si rivede da qua, e sali, libera, ecco lì, madonna, c'è il bordello lì, raga, ma quanta gente c'è, stanno uccidendo i bot, questi qua, eh, ah, madonna, faccio una mira col cecchino, fra stessa, eh, ma son tanti, eh, io l'ho colpito quello, ah, ma io son da solo, cazzo faccio, cazzo, io da lontano gli sto sparando, eh, ma io l'ho peccati, però, mi hanno sparato, no, no, cazzo, no, se in ficca dentro ci spuglio quel coglione, no, la riesco a prendere, ok, eh, ma io non ho guanti, non ho un cazzo, no, c'è gente da me, è arrivata, no, forse son botti questi, forse, no, 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 mi hanno distrutto l'auto, no, te la sei fatta spoggare, eh, ma, beh, perché non mi muovo, ma siete voi con i guanti qua, oh, allora, raga, salite sulla mia, e sono in quattro, e li prendo, dov'è le altre? non qua, eh, ma porca, no, dai, non ci credo, ma sempre, diante, ora sono a terra, dove che stanno? qua, 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 sono qua, scelpati, no, è così morto, sto coglione, no, dai, che culo c'ha? non c'hanno fatto esplodere, ah, che ne è? no, non va scendere, no, ma esplodi, ti togli un zacco di vita, no, ma non mi ha levato niente, non mi ha levato, strano, che miseria, e ora, ma c'hanno scassato, ma c'hanno scassato, ma come cazzo, ma io non c'ho niente per muovermi, tra l'altro, non c'ho guanti, c'ho un cazzo, ok, Leandro, aspetta, aspetta, perchè? è per i guanti, cosa c'ho io? eh, eh, lea, se venite a me, c'ho i guanti, c'ho la roba, eh, mi ha visto, oh, l'ho colpito, madonna, eh, li sto cicchinando, ma cosa è che vuoi? perché devo venire? eh, perché c'ho i guanti, di, adoro, c'ho anche, due, due medagliani, un pazzati roba, le ho capito, niente, ma colpito, vabbè, hai capito, ma stanno lì quelli, c'è, c'è, madonna, l'ho preso in testa quello dietro la macchina, l'ho battuto, eh, no, no, corri, corri, dobbiamo pushare per forza, perchè quello l'ho battuto, eh, ma c'è un altro, ma c'è gente sotto, m***a, puoi tenere gente, vado di gente, mi riesce a prendere la mia scheda, le ha, aspetta, aspetta, questo qua, abbiamo uccidito questo qua, questo è morto, pure spara al botto, lo scemo, dai, ricarica, stocca, no, un colpo gli mancava, eh, ah, l'ho ucciso, l'ho ucciso, meno male, ucciso, ma io ho ammazzato l'altro, qua, colpito, perché è andato, oh, via qua, via, via la tua scheda, un attimo, poi c'è il funerario, ma qua è pieno di roba, un'altra roba c'è qua, oh, mamma mia, ma qua c'è il cimitero, si, si, ma c'erano pure le corone, questi qua, eh, lasciatemi così, prendo, prendo la mia roba, ammigli, cecchino d'oro, questo bastardo, non c'è qua, se avete due punti vitti, non c'è qua, è più vicino, su qua di qua, non c'è qua, non c'è qua, eh, ma lì c'è il porto di roba, c'è, eh, eh, la fai, ragazzi, si, ce l'ho, ma io non c'ho, ma ho il movement, non c'è no, eh, insomma, non hai i guanti, no, non ho trovato, ah, ho capito, ma stavo sparando a quelli, infatti l'ho fatto bene, perché l'ho pure ucciso a quello, c'è quello lì, c'è quello lì, che era fermo, sparava col cannone dentro la macchina, ma l'ho preso in testa, gli ho fatto 300, l'ho ucciso diretta, eh, comunque poi ci sono i cactus, eh, eh, lo so, saluto, grazie, vabbiamo fatto il cimitero, no, ma i guanti mitici ci sono qua, cazzo, eh, quelli erano miei, eh, ma erano qua, non le hai prese, eh, non le hai viste, eh, qua cazzo, aspetta, dove sono? no, ero preso io, vabbè, più io ne altre, dai, è uguale, cos'è che c'è, ma c'è meno, ma stardi, bro, no, sì, come tu, oh, qua c'è, non c'è, non c'è meglio questo, qua c'è il mirino almeno, questa roba qua, ah, ah, che c'è la save, cazzo, cazzo, non ho pure, non ho pure, perché sto portando anche i cosi, cazzo, eh, non ho niente di spazio, perché c'ho anche le cose, quelle elettromagnetiche c'ho, oh, c'è uno qua, a sinistra, cazzo, ah, se l'ho visto, mica l'ho colpito, ho fatto il 338 gli ho fatto, è morto, gliele ho ciso con l'infetta, eh, comunque col cecchino c'è una mira pazzesca, eh, cioè, non è facile, eh, tu c'è una bella mira, eh, eh, assurdo, oh, ma siamo, ma siamo contro due, eh, 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 si chiude pure qua, ma io andrei in giro a cercarle a questo, eh, ma io voglio stare qua, tanto queste qua, secondo me, potrebbero essere anche, sì, ma guarda, a me li vedono, perché c'ho due medaglioni, eh, io, anch'io ce n'ho uno, ah no, no, eh, non ne ho, ah vero, la porta di prima, oh, dove cazzo stanno questi? oh, spero che non sia un bot, no, sono un bot, sono nascosti, però, perché, comunque abbiamo massacrato tutti, il dryer, ah, l'ho visti, eccoli la, anch'io, madonna, 138 da qua l'ho colpito, madonna, sono bot sono, però mi sa, eh, questo è un petto, che sono molto composto, ah, eh sì, ah, uno l'ha presa, dai, ma guarda che sono caduto comunque io, bene, ma, ma uno era qua invece, eh sì, sto sparando sotto, no, ma uno era sopra, eccolo, ah, 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 cazzo, ah, cazzo,